Ancora caos sulla questione strisce blu a Torre del Greco. Da alcuni giorni è infatti emerso lo scenario che vedrebbe le strisce blu nei due parcheggi al momento liberi e gratuiti di la salle e largo annunciazione. Un argomento risalente all'ultima amministrazione Borriello che è stato rispolverato e proposto proprio nelle scorse settimane. Sulla questione è intervenuto ai nostri microfoni il consigliere comunale Luigi Caldarò. Una questione che è stata tirata fuori dall'amministrazione attuale, dal sindaco Valumba come proponente. Questa questione risale al 2016 con all'epoca amministrazione Borriello in cui si propose in consiglio comunale di mettere degli stalli a pagamento nei parcheggi la salle e Santissima Trinità e all'epoca dopo numerose proteste, battaglie anche fatte dal sottoscritto in consiglio comunale insieme all'epoca forse di opposizione, si riuscì comunque a far accantonare quel provvedimento. Oggi invece è tirato di nuovo in ballo da questa amministrazione. Quali sono le proposte nello specifico, quantomeno le richieste che avanzano? La proposta è chiara, semplice, unica. La proposta è di ritirare questa deliberazione perché non è possibile che a parcheggio la salle, che voglio ricordare è un parcheggio che serve numerosi servizi ai cittadini come il Parco Loffredo, come il cimitero comunale, come le due scuole De Bottis e Nobel, come gli uffici comunali e non da ultimo è presente in un quartiere il più popoloso della città di Torre del Greco, che è Sant'Antonio, vengono messi questi stalli blu senza una reale motivazione perché gli stalli blu nascono per permettere l'interscambio delle auto. In quel parcheggio non c'è mai la saturazione dei posti. I posti sono sempre disponibili, così come a Santissima Trinità che è l'unico parcheggio non a pagamento nei pressi e nelle vicinanze del centro storico comunale.